io non penso proprio che prendo meno di 4 gx se prendo meno di 4 gx ci sa qua il mio gatto testimone mi taglio l'uccello siete pronti? sigla! vado? vai vai figuro sul serio ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della gang del tubo io sono Enzo, futuro vincitore di questo sfida, di questo sfida certo, questo pack opening con i miei compari Akira ciao ragazzi, io sono uno dei futuri perdenti, e Bladi fammi presentare prima e poi dopo dici che sei un futuro perdente no io sono uno dei futuri perdenti Akira, io non vedo il senso di questa cosa non già sappiamo come va non ha senso, però c'è stata una dichiarazione prima dell'inizio del video che sarà tagliata no che non sarà tagliata io alla fine della sfida riproporrei l'affermazione di Enzo sinceramente, per vedere come è andata a finire ma tanto, cioè è ovvio che le sfide sono fatte per essere sfide appunto, per essere vinte allora ragazzi vi spiegherò brevemente come funzionerà il tutto abbiamo dieci bustine ad capam della nuova espansione di sole e luna e guardiani nascenti e uno ad uno apriremo ogni bustina e chi sculerà di più ovviamente vincerà cosa vincerà? niente perché ha già sculato quindi secondo me non si merita neanche un premio io sarò l'ultimo allora io già so che in questa bustina mi esce shaming anche se non ci sta però mi uscirà perfetto chi siete? si vai allora io c'ho la linguetta c'ho la linguetta pronta aspetta aspetta a me è uscito scritto caricamenti in corso un momento ah ok quindi un'eternità one eternity later e c'ho la linguetta linguetta ok tre no io ho già slinguettato vediamo la rara vediamo la rara ok c'è l'energia ragazzi spoiler alert io ho già trovato due belle carte allora io so mo ho staccato la linguetta e allora ho due rare io ma che come ho una sola pure hai una sola ok prima la rara no io apro l'ultimo quindi non rompete le scate ok goditella no goditella ho visto i disegni sono belli il disegno di goditella è bellissimo anche olografico ok ragazzi mi prendo questa responsabilità sono il primo ad aprire la rara si vai ok non ve lo dico chi mi offre ok andate voi e poi ve lo dico non è male guardami trolla a manetta apro anche io no i CX vaghiu si chiamano eh vai devo girare io si ah a me è uscito vaghiu liga rock CX dalla prima bustina sicuro con sguardo sanguinario a me non è uscito si vola a me è uscito a me è uscito golisopod ah vabbè non male a me è uscito vittinico vittorstella quindi ma c'è una merda però io vi segnalo il mio liga rock CX ok diciamo 1 0 0 per Akira io ma perché devo aspettare sempre un momento io no 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 io fa ah perché io già c'ho c'ho una rara davanti io c'ho una rara sola ah Enzo comunque mi è uscito mi sto sentendo altre due rare ok la prima rara bloody di nuovo gothi questo è come toga madonna mia come toga Enzo quindi ora tocca a me si vai tu vabbè niente di buono su hello no ok che schifo vai vado io adesso vai vai non dire quello che ti esce me lo dico ok andiamo vai a te bloody vado io ok è modifici è modifici a me è uscito l'oricorio buio quello là dei segnalini danno quello lì che volevo tanto Akira rimane in vantaggio sempre 1 0 0 allora signori io ho una rara anche io ok allora prima c'è un dude di alola vado prima io si non ve lo dico non ve lo dico ok 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 io send slash di alola ah bello io il secondo golliso pod ok io ho trovato drampa geeks per i diritti dei gay quindi non male si chiamano enzo ah no scusate ok scusate che era un po' in mod mod concentration allora ho trovato il drampa geeks quello la ghost quindi è carino quindi 1 1 e bloody rimane in coda 0 che schifo però avete una sola rara sì anche io una sola rara no io ne ho due io ho una allora parti tu con la prima rara ok la mia prima rara è leo lisc ok io apro vai niente geeks adesso vado io sì ok non ho nulla da chiamare ok tocca a me allora mi giro la mia rara ok salazzol ovviamente è normale con l'abilità veleno rovente io invece tengo oricorio psico con danza vitale allora il risultato resta sull'1 1 0 che direi di fu diciamo che non è proprio all'alto livello io ho trovato sia l'altare solare che l'altare lunare anche io sia l'altare solare che l'altare lunare poi mi è uscita una carta aiuto che è i bis aspettate un secondo che a me si è intaccato il pc non so cosa sia successo che bello abbiamo avuto un piccolo crash da parte del nostro bloody che ha aperto la bustina però non sappiamo cosa sia uscito a quanto pare nessun geeks e quindi ora questo pacchetto concluderemo nell'aprirlo io e il signor Enzo sono il galio geeks ovviamente no ah normale allora vado io vanillux super martello distintivo acqua e due rare e io anche ho due rare io ho una rara allora Enzo apri la prima delle due rare procedo procedo alla prima rara che è un drampa geeks sempre no 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 ah ok a me la prima è machamp lo apro si ok niente geeks no vai Enzo vai victory bell e poi vado io con oricorio con danza vitale io ho due rare io ho una sola sono protetta da leader paradise quindi ce n'ho solo io due si allora inizio ad aprire la prima delle due rare vai che è Heliolisk ok io apro vai boom commo geeks ok quindi siamo 111 vai Enzo è tirata pareggio dietro un pangoro non è sempre brutta roba vado io allora che trovo un garbo d'orre oh fantastico bello proprio io ho una rara sola che anche io ho una rara sola blati io ho una ok vai Enzo un altro vittini signori tanta roba che a me è uscito Unscro ok vado io allora oricorio però l'altro io tiro la linguetta della penultima io ho due rare sperando di prendere qualcosa di buono adesso io ne ho una sola anche io ne ho una sola quindi vai blati ooooh la fessa della madre siiii con veleno rovente vai Enzo ho però uscito tutto lo grafico a me è fido talon flame ok allora ora tocca a me che giro e trovo un altro garbodor ah ma io tengo ancora un'altra rara appunto lo sappiamo ah ok io apro un ricorio di merda va bene allora signori ci giochiamo tutto all'ultima bustina io sono per ti tirare la linguetta io ho una rara ah quindi due già hai fatto Enzo io ho una rara sola ok allora giro la linguetta e vedo e vi dico un attimo che io ho una rara ok quindi blati chiudi le danze inizi a chiudere le danze no no fermi qua questa la avriamo tutti insieme è già aperto è tu purtroppo ho capito no tu cosa fammi parlare ok io la apro di prepotenza è il messino lì quindi Enzo va a due mannaggia ribbio e io prendo di nuovo ricorio elettro quindi vince Enzo come amo predetto alla fine con due sole GX in dieci bustine a me c'è ribloccato yeah diciamo che non è andata benissimo a nessuno nei tre sì infatti considerate per me sono due GX in dieci pacchetti sono pochi peraltro viste tutte le carterane che ci stanno pensavo che il drop rate di questa espansione fosse un pochino più alto invece evidentemente mi sbagliavo perché vabbè ma tu devi dire sempre per chi il drop rate è alto no manco per me a quanto pare e va bene comunque è andata così possiamo farci niente il signor Enzo ha vinto io ricorderei la sua affermazione prima dell'inizio del video però quella diciamo che voglio mostrarvela integralmente va bene allora Enzo visto che tu sei il vincitore goditi il tuo momento di gloria ok allora ringrazio tutti i colori quali facevano il tifo per me alberto a me è uscito l'ancora però mi interrompi sempre cazzo mi interrompi sempre non vedi che sto parlando con con i miei fans non vedi che sta lavorando ok ripeto l'affermazione precedente in cui dico che ringrazio i miei fans per il supporto e grazie a voi se sono arrivato fin qui grazie mille veramente quel liga rock è come un gol al novantesimo e quindi sono contento e vi saluto ci vediamo al prossimo video ragazzi qui da Enzo Akira e Bladi è tutto ciao belli ciao ragazzi ci vediamo alla prossima ciao belli se prendo meno di 4gx mi taglio l'uccello grazie a tutti